Ciao e bentornati su Annessi e Sari Pixels, il canale che vi fa scoprire un gioco nuovo ogni giorno. Io sono Paolo e oggi parliamo di Glass Masquerade. Glass Masquerade è un puzzle game, nel senso più letterale del termine. Si fanno proprio i puzzle, quelli che mette i pezzetti uno di fianco all'altro, si attaccano e formano un disegno. È ispirato a uno stile vittoriano di finestre, di vetrate, con i vetri colorati che formano un disegno, tanto per capirci, e ha come ambientazione ricostruire degli orologi storici in giro, dedicati a varie parti del mondo. All'interno di Glass Masquerade ci sono 25 puzzle da fare, 25 orologi da ricostruire, e quindi 25 vetrate da ricostruire. La forma delle vetrate, in particolarità di Glass Masquerade, non è rettangolare o quadrata, ma ha delle forme irregolari. Così come sono irregolari i pezzi che andremo a mettere. Non avremo i pezzi classici del puzzle, che sono fondamentalmente quadrati con delle scanalature o delle protuberanze, ma avremo dei pezzi di forma varia, più o meno regolare. Glass Masquerade gioca tutto, tutte le sue carte, su un'atmosfera, una situazione estremamente rilassante, che è quella che dovremmo affrontare anche noi se montassimo un puzzle a casa. Quindi, applauso alle musiche carine, rilassanti, tranquille, all'estetica e al gameplay stesso, che non ci mettono fondamentalmente nessun tipo di fretta a ricostruire i puzzle in questione. Questa ha una certa coerenza sua interna e diciamo che si presenta e si gioca come un po' come la sua controparte fisica. Peccato che i puzzle siano soltanto 25 e siano risolvibili tutti in un tempo abbastanza ridotto. Non ci metterete molto a fare tutti i vari puzzle, sono piuttosto semplici, anche perché il gioco ci facilita ulteriormente indicandoci quali sono i primi pezzi da mettere. In generale, iniziando un puzzle, ci vengono forniti come aiuto i primi 4-5 pezzi che sono piazzati lungo i bordi, che quindi creano delle forme, degli spazi vuoti con delle forme particolari che renderanno semplice trovare i pezzi tra quelli disponibili. È un gioco quindi con una durata piuttosto limitata e un valore di rigiocabilità piuttosto basso, se non un nullo. Cosa ne penso io di Glass Masquerade? Che è un gioco che promette qualcosa e consegna quello che promette. Che questo qualcosa sia un'esperienza breve e rilassante nel fare dei puzzle è al di fuori del mio giudizio, nel senso che se mi prometti dei puzzle rilassanti e mi rendi dei puzzle rilassanti tutto sommato, se mi piacciono i puzzle, io del piacere da questo gioco lo ricaverò. Non è un gioco brutto, è un gioco piccolo, con un approccio molto casual al gioco che ci promette delle mezz'orette rilassanti qui e là nel corso della sua vita. Io non ho tantissima pazienza per giocare i puzzle, però devo ammettere che una volta ogni morte di papa, un quarto d'ora, a fare un puzzle lo passo anche. Quindi in sé non posso sentirmi di dirvi che sia un brutto gioco. Certo, dovete aver voglia di fare dei puzzle piuttosto semplici. Il gioco costa 6 euro su Steam, è stato sviluppato dagli Onyx Lute e io vi invito a raccontarvi questa volta nei commenti, se avete voglia, se anche voi come me da ragazzini avete fatto dei puzzle. Io mi ricordo i puzzle di Mordiglio che facevo con i miei genitori, avevamo un tavolo in salotto predisposto per piazzare proprio i puzzle lì sopra. Dittemi se anche per voi è un ricordo dell'infanzia, che è un po' l'unica cosa che più mi attira di questo gioco, questo tipo di esperienza ricordo rispetto a quello che facevo da ragazzino. Grazie per aver seguito l'episodio, noi ci vediamo al prossimo. Ciao! Ciao!